Buongiorno per i ritrovati in questo nuovo appuntamento meteo. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare like e attivare la campanellina. Parliamo oggi dei fortissimi temporali in arrivo nella giornata di domani, quando una vastissima linea temporalesca in discesa dalle Alpi Occidentali, quindi un'albera propria Squall Line, scenderà sul Piemonte e sulla Lombardia settentrionale. Proprio su queste zone ci sarà il rischio anche di fortissimi temporali davvero molto intensi, con il rischio anche di qualche supercella. Questi nuclei temporaleschi poi si trasformeranno in temporali rigeneranti e in serata daranno luogo a fortissimi temporali tra Lombardia e Veneto. Avremo un'energia temporalesca a disposizione fino a 3000 J per kg, quindi avremo fortissimi temporali grandinate e il rischio anche di qualche vento estremo. Grazie. 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 Grazie.